L'accoglimento del nostro ricorso ferma la decisione del Governo di tagliare scuole e risorse e personale scolastico. In Campania, dichiara il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo la decisione del Tarra, che ha accolto il ricorso presentato da Palazzo Santa Lucia sul dimensionamento scolastico. Con ordinanza del Tribunale Amministrativo ha accolto la richiesta cautelare. In ballo il taglio di 126 presidenze. Il Tarra ha sospeso il decreto interministeriale e ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità. Per De Luca la sospensione del provvedimento del Governo è una decisione importante che incoraggia a proseguire la battaglia fino alla conclusione positiva. Avevamo rilevato nei mesi passati l'assurdità del ridimensionamento delle attività scolastiche, soprattutto nel momento in cui diventa ancora più necessaria un'attività educativa e di cura dei ragazzi, soprattutto nei quartieri più a rischio. La replica del Governo affidata al Ministro dell'Istruzione Giuseppe Balditara. L'ordinanza del Tarra Campania verrà immediatamente impugnata. Siamo già al lavoro con l'Avvocatura Generale dello Stato per ricorrere al Consiglio di Stato, fiduciosi della bontà delle nostre ragioni. Pur nel rispetto che si deve ad ogni pronuncia giurisdizionale, non può ritenersi condivisibile che il Tarra Campania si sia dichiarato competente su un decreto adottato di concerto tra due ministeri con i criteri per la definizione dell'organico dei dirigenti scolastici sul territorio nazionale. Il 21 novembre si esprimerà sul caso la Corte Costituzionale, taglio o no, e quella la data da cerchiare ora in rosso sul calendario.